Attenzione, due contro uno. Prova ad andarsene, è proprio lui. Mette dentro Marinelli, la vede dell'1-0. 2-0 ancora Marinelli. Attenzione, Marcella tu per tu, palo. 3-0 nel frattempo, mentre avevamo intenti a segnare l'azione precedente, la mette dentro proprio lui. Attenzione, ancora Kantè! Doppietta, 4-0. Attenzione, Marcella tu per tu, palo. Eh, eh, non è c***o. Attenzione, la push! Marcella, che c***o! Che c***o è push! E' saltato tutto! Fermo, fermo! Fermo, fermo! E' la retta, il 6-1 di Lauro. Guagli, eh. No, cosa stai? Poi ce l'hanno giovanendo a una porta, vedi? Sì, ti spieghi nuvi. Attenzione, ancora Kantè a tu per tu! Sette a uno, finisce il match, andrà il migliore in campo. Eccoci con Kant, migliore in campo nel match, vinto per 7-1, dei ragazzi dell'Atletico Vele contro dei rimaneggiati ragazzi del Pescaramanzia. Una partita che avete controllato al primo e all'ultimo minuto, raccontacela un po'. Eh beh, prima abbiamo attaccato, abbiamo cercato di segnare quanto più possibile e poi ci siamo abbassati un po'. Niente, quindi sono arrivati questi tre punti importanti, che dove vi possono lanciare, secondo te? Eh, poi siamo partita dopo partita. Diplomatico, quindi? Sì, sì. Va bene, allora in bocca al lupo. Ci credete di un champion! Alla prossima!